Cosa c'è la storia di Lulic? 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 Lulic ha scritto uno dei capitoli più importanti della gloriosa storia bianco-celeste. E non c'è stop sbagliato che tenga, o passaggio sbilenco o partita insufficiente, perché il bosnieco da quel giorno coda della stima eterna della parte bianco-celeste di Roma. Etichette che non si tolgono, che rimangono per una vita intera, di padre in figlio, sicuramente anche di più. Senad da quel giorno sarà ricordato per generazioni, il suo collo è raccontato come si fa oggi con quello di Fiorini, oppure quello di Sala, Sovvieri, istantanee da leggende scolpite nella storia. Eppure Lulic è anche presente, dal 2011 è in punto fermo della Lazio, terzino a tutta fascia, esterno, all'occasione anche a mezz'ala. Senad sa fare tutto, ed anche per questo gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina bianco-celeste lo hanno sempre messo al centro del progetto. Così come Nzaghi d'altronde, che lo ha scelto come capitano dopo l'addio di Biglia, investitore importante per uno dei leader dello spogliatoio. Sabato Senad avrà la fascia al braccio, anche nella partita che per lui conta di più. Lulic è il derby, un legame indissolubile, che vive anche nei prodotti della sua linea di abbigliamento, Lulic è 71, un minuto che nella partita contro la Roma viene sempre ricordato con particolare affetto. E con ogni probabilità sarà così anche Sabato, quando Senad, con la fascia al braccio, cercherà di essere di nuovo l'incubo della squadra giallorossa.